e dunque buonasera per ritrovarti un'altra puntata di baschettando da casa piovera speriamo che prima poi si possa tornare nuovamente a registrare perché significherebbe che siamo tornati tutti alla vita normale telespettatore magari mandateci sulle nostre pagine facebook delle testimonianze di com'è la vita senza pallacanestro che è una piacevole abitudine per tanti di noi questa sera dopo che abbiamo avuto la scorsa settimana con Giorgio Salvini abbiamo con noi Nelson Rizzitiello alla della Paffoni dunque cominciamo proprio con la prima domanda per Nelson che salutiamo la sensazione come si vive come si sta adesso in questo momento particolare per tutti voi ciao a tutti niente come la viviamo la viviamo in quarantena a casa con la famiglia cercando di sfruttare il tempo libero in una maniera costruttiva io passo le mie ore studiando e lavorando per per migliorarmi e cercando di prendere il tempo che adesso un po più libero perché non ci alleniamo tutto così per la collaborazione sto facendo in ambito finanziario e poi faccio gli allenamenti che il nostro preparatore ci ha dato però purtroppo a a casa possiamo fare quello che non tutto e poi dopo niente sto dietro ai miei piccoli figli perché dentro casa è devo dire dura stare dietro perché dopo un po' si si annoiano però diciamo la viviamo anche un po' con preoccupazione questa situazione un po' con ansia e quindi niente stiamo a casa preferiamo non uscire come sono le norme governative sicuramente dobbiamo rispettarle aspettiamo speriamo che questa questa situazione si migliori il più presto possibile perché comincia ad essere pesante ma poi soprattutto credo preoccupante per in ambito italiano anche per gli ospedali per la situazione si sta creando quindi niente aspettiamo fiduciosi perché credo che il governo italiano stia attuando norme importanti che hanno reagito bene i medici come dicono tutti c'è alla fine televisione stanno lavorando bene niente in questo momento nelson si fanno tante ipotesi tante congetture da una parte c'è la fip e c'è la legnazione al palacanestro che spinge per un ritorno sul parquet dall'altro ci sono le società per esempio di del girone a di di serie b che hanno detto che forse è meglio finirla qui cosa ne pensi in merito tu ma cosa ne pensi io credo che adesso ad oggi fare una valutazione sia presto perché dobbiamo valutare tanti piccoli fattori che influiscono la possibile ripresa e sospensione del campionato innanzitutto dobbiamo vedere l'evoluzione del virus e dei contagiati che stiamo monitorando ogni giorno i giornali la televisione ci dicono il discorso qual è secondo me che se la situazione migliora qui in piemonte o migliorarsi in lombardia non è detto che tra 20 giorni 25 giorni sia migliorata in sicilia anzi considerando che la sicilia adesso sono arrivati sono partiti c'è stata la grande fuga dal nord giù può essere che la sicilia fra 15 giorni si ritrova in una situazione con molti più contagiati e quindi non potrebbero riprendere gli allenamenti siamo appunto a capo se qui può essere allentano le norme in sicilia può essere aumentano come in calabria o le altre regioni quindi è un discorso del campionato totalmente fare del che riguarda l'italia perché le squadre sono sparse in tutta italia la sospensione è sicuramente un'ipotesi perché valutiamo che quando si causa di forza maggiore poi soprattutto primis c'è la salute non è che io credo che una società un giocatore un allenatore o chiunque sia voglia andare a giocare con il rischio il pericolo che ci sia un contagio ma anche un tifoso vuole venire al palazzetto sicuramente è un'ipotesi ma cerchiamo di di adesso stiamo noi alla finestra cerchiamo di aspettare quello che diranno dicera la lega l'np aspettiamo poi dopo le società in accordo con le società quello che c'è a prendere sicuramente sarà un danno grande economico per noi giocatori anche ma per le società per tutti l'italia intera è stato un grande danno economico e consideriamo che noi anche questo è il lavoro quindi se finisse qui il campionato un po' non so come andrebbe a finire io spero che è una normalità al più presto possibile però i dati le valutazioni non credo che siano positive comunque vediamo e aspettiamo dal punto di vista del giocatore come scorsa settimana Salvemini ci ha detto le sue sensazioni da coce un giocatore forse immagino siate un po' dei leoni in gabbia in questo momento non poter fare nulla quanto è cambiata nella vita di tutti i giorni la vostra vita? Guarda io credo che hai descritto benissimo l'immagine ma non credo solo io noi giocatori sentiamo un po' tutti i leoni in gabbia alla fine costretti a casa con questa restrizione di stare a casa perché andare in giro è rischi di essere contagiato da questo virus e alla fine sai non poter fare una passeggiata non poter andare al parco non poter fare tante cose sono delle restrizioni che sicuramente influiscono negativamente sul tuo stile di vita cerco adesso di sfruttare al meglio il tempo che ho stando con la famiglia con i bambini con mia moglie studiando avendo molto tempo libero adesso cerco di studiare il più possibile di portarmi avanti un po' col lavoro e poi sicuramente cerco di mantenere con il programma che ci ha dato Walter un po' da casa anche se non è la stessa cosa la forma fisica per farmi trovare un po' pronto se eventualmente ci fosse la possibilità di riprendere il campionato però ti dico sicuramente inizia a essere un po' pesante la situazione perché stiamo parlando di 15 giorni sai piano piano inizia a mancarti un po' il campo, il venire lì, la routine, lo spogliatoio, i compagni, il giocare cioè quello inizia un po' sinceramente sì a mancarmi e devo dire la verità speriamo che la situazione migliori più presto possibile e di ritornare a normalità tu hai anche due figli, un ragazzino che fa elementari ed è nel settore giovani della Paffoni allora da papà quanto è difficile così marcare a uomo anche i figli in questo periodo e soprattutto per un ragazzo ad esempio che fa sporco per il tuo figlio cosa significa dover rimanere tutto questo tempo in casa? è dura, è dura per lui ma è dura per noi credo, noi genitori è dura perché poi ne abbiamo due, considera che uno come hai detto tu, proprio mio figlio, gli piace installare aperta, giocare, palacanestro, gli manca tantissimo infatti sta palleggiando in tutte le maniere, poverino, dentro casa però non possiamo fargli fare tanto anche perché sennò i vicini poverini vengono su e ci sparano perché poveretti tutto il giorno dentro casa alla fine i rumori ci sono, poi con due bambini sì, la soffre, credo che questa situazione poi gli è stata spiegata bene al grande che la piccola vede, gioca, dà fastidio al fratello, giocano insieme però sai, dopo un po' PlayStation, gli studio, perché alla fine devo dire le maestre sono state bravissime, gli hanno dato, sta proseguendo il suo programma scuola da casa tramite il computer, tramite schede che gli fanno fare studia con la sua parte di giornata che le impieghiamo nello studio e poi dopo sai, come dicevo prima, PlayStation un libro, una televisione, un gioco, dopo un po' però sei stupido perché sono sempre quelli, i giochi o le cose da fare, sai, una passeggiata mentre prima adesso poi con queste belle giornate che ci svegliamo ogni mattina con queste belle giornate al parco sarebbe divertito, gli altri amici, altri al campetto, sarebbe divertito, sicuramente la sta soffrendo, noi di più, perché stare dietro sinceramente è pesante, però come ripeto dobbiamo stare a casa per la nostra salute, per la salute della famiglia e niente, è un sacrificio che bisogna fare. Facciamo adesso un passo indietro Nelson, si è fermato il campionato in un momento difficile per la Pafoni che era riuscito alla sconfitta di Empoli, però parlando con tanti di voi è emerso come negli ultimi giorni, nell'ultima settimana fosse scattata quella scintilla che non era mai scattata durante l'anno, è davvero così e se allora da questo punto di vista voi sperate che in qualche modo prima o poi si torni sul parquet? Guarda, sì, non lo nascondiamo, venivamo da un periodo negativo, abbiamo perso l'ultima partita a Empoli, venivamo anche da un periodo che abbiamo perso quattro partite, se lo ricordo male, nell'ultimo mese, questa sosta sicuramente forzata ha aiutato almeno a recuperare gli infortuni, io in primis che avevo questo problema un po' al ginocchio di una piccola infiammazione che adesso è guarita, che dovevo stare fermo e quindi è guarita. Poi c'era Bala che si era fermato, però il discorso qual era? Siamo un po' azzardato dire che la scintilla che è scoppiata, nel senso che adesso la squadra può affrontare o sicuramente farà meglio, perché? Perché in primis, l'ultima settimana, siamo all'anato in otto, è una settimana irreale in cui tu non giocavi pensando sempre a questa situazione e quindi non so che dirti, secondo me è un po' azzardato, secondo me la prova ce l'hai quando puoi fare un mese, io credo un mese o un mese e mezzo di allenamento al completo e devo dire che quest'anno, forse non so se non l'abbiamo mai fatto, ma veramente poco, di allenamenti duri al completo tutti e 12 e poi dopo la fine della prova il 9 ce l'hai sempre la domenica e questo il banco di prova secondo me per vedere se la squadra è cresciuta o no, in una settimana con allenamenti ridotti, squadra no al completo, così mi sembra una cosa un po' azzardata, sai, poi con la testa sapendo che non giochi la domenica non è uguale sapendo che devi affrontare una partita, il campionato, in un momento così. dobbiamo rimanere, come ripeto, è sempre una ripetizione però alla finestra e aspettare quello che succederà tra le decisioni della Lega, la Federazione, quello che decideranno noi aspetteremo il verdetto, niente. Facciamo un po' di due fantabasket, il primo è ok si torna in campo, si torna sul parquet, cosa vedi per la tua Paffoni e poi domanda numero due invece se il 4 di aprile, prima o dopo dicono ok è finita la stagione, se da parte tua ci sarebbe la volontà di rimanere anche alla luce di un bilancio personale di questa tua avventura o meno. Ma cosa vedo? Vedo che se riprendessi il campionato che dobbiamo riprendere subito il nostro cammino e se siamo rimasti un po' indietro perché i risultati un po' al periodo lo dicono, non siamo cresciuti come squadra e quello che alla fine evidenzia le nostre sconfitte o il periodo negativo, la crescita di squadra e se riprendessi il campionato dobbiamo subito riprendere la strada giusta per crescere come squadra, perché alla fine insieme dopo credo poco, non so come la formula quale sarà, ma inizierebbero subito i playoff e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Sicuramente spero che gli infortuni o tutto ci lasciano in pace e poi vedremo. Poi ti dico, adesso vediamo. Sul mio profilo personale, ma sotto il profilo di città, star bene, società, luogo, tutto, devo dire è ottimo. Se l'avessi saputo prima forse sarei venuto prima perché devo dire la verità mi sto trovando veramente bene. Sotto il profilo invece tecnico mio, personale, proprio a livello così, ma non sono contento perché non ho potuto, secondo me, dare il mio contributo per quello che realmente posso dare. Per gli infortuni in primis che mi hanno un po' condizionato e via dicendo la mancanza di allenamento che non ho potuto fare per l'infortunio. la domanda se mi piacerebbe rimanere in futuro, se ci fosse la possibilità, guarda, non so che rispondere, però se dovesse chiudere qui il campionato è un po' come una storia senza fine. Tu dici, hai scritto la storia, ti rimane senza fine e ti rimane un po' qua sul gruppone, no? Quindi a me farebbe piacere continuare a scriverla o la fine, no? Come ogni storia, ogni anno che io dico dove sono stato in un posto ho scritto una storia, sia positiva che negativa o, scusa, una fine, sia positiva o negativa. Qui ci troviamo al paragrafo 7 per dirti e vorrei arrivare al 10, il finale, per vedere la fine e scrivere nella fine. Quindi vedremo, no? Se li dobbiamo scrivere l'anno prossimo i tre capitoli o tra poco. Valuteremo e vediamo, no? Ciao a tutti e mi raccomando, teniamo duro, stiamo aspettando dentro casa, non è facile, teniamo, speriamo che si risolva presto e niente. Ciao a tutti. E dunque con i saluti e con le ultime risposte, l'ultima risposta di Nelson si chiude qui, la puntata di Baschettando da Casa Piovera, ci rivediamo martedì prossimo come sempre alle 20.35 e mi raccomando, l'invito, l'obbligo è sempre lo stesso, state a casa. Ciao ciao!